A doc ero senza silenziatore perché ha ottenuto la K47U che ho raccolto da terra per livellare è fortissimo, è fortissimo ah no c'è doc oh andiamo a vedere la parte nuova di mappa andiamo a vedere la parte nuova di mappa ho detto andiamo a vedere la parte nuova di mappa stile in discesa nell'area, occhio in alto c'è di alla è fortissimo bellissima WING riscaldamento finito, adesso si fa sul serio vi giuro che mi impegna la sovranta, non c'è anche nessuno ma questo è WING segnete voi il posto battle royale attenzione i gas in avvicinamento, procedere alla zona sicura elimina tutti i bersagli nell'area operativa ma quanta roba c'è UAP nemico in volo ma anche qua continua doc puoi anche scendere? si ma scusa se c'è una safe che si chiude qua riposizionamento dove? fate che io sono sotto ma secondo me non la passiamo in molti sta cosa no dopo famiglia ah dai ho capito va un bel po' e abbiamo anche fatto quasi la cassa eh se ci avete fatto caso non è male quello che è un cazzo di nabirinto ma qui un bel po' qua c'è una porta chiusa non ci sono altri masi sicuro ma si può uscire si può uscire solo da la? cioè no si dico solo da lì si esce e poi qua da ok ok io sono su eh però non è maler UAP nemico in volo guarda che secondo me scendere lì non è mica stupido come cosa c'è del loot e poi c'è poca gente possiamo farci un video su youtube e farci i milioni di views vabbè non vuoi che hai ragione hai ragione vai raga io ho i soldi denaro affermativo grazie ti prego qui davanti ci mettiamo nella torre dei verginelli dove ci mettiamo ragazzi non scavare il carretto non scavare il carretto eh sì eh sì io ce l'ho un tronco un tronco UAP nemico in volo lancio deglutazione alleato in armi UAP alleato in sorvolo avvio scansione radar mi muovo ok finalmente cambio posizione eh io vado sulla torre vado da questa parte arriva eccolo è un paracadutista secondo me lì portato raga è solo ma come fanno a fulminarmi in due secondi io non capisco raga UAP nemico in volo mi fulminarmi in due secondi serve supporto bersagli marcati qui striker 3 ricevuto attacco in corso ringameli mazzolio compagno nel gulag se sopravvive può tornare in azione ok ok nessun colpo segno basta te li ho piggati ah non sapevo che è lì non l'avevo visto che è lì pensavo fossi nella casa di fronte questo è il gulag sopravvivi e tornerai in azione il grano ancora giusto preparati compagno caduto tornerà alla base vinci qui e ti rimandiamo in prima linea se perdi sei fuori gioco tocca a te soldato occupati di quello stronzo ma questo è stupido è lì il grano ancora si arriva in azione presto mi si riesce si 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 riesco già praticamente no 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 c'era uno che è andato al carrellino io l'ho cerchierato l'ho craccato questo qua è tanto riuscito a interessare poi il parquetotista è sceso e dopo gli stavo sparando l'ho fatto l'ho lasciato a terra il tipo di prima guardate dove eravamo morti io ero morto l'ho andata a interessare vado qui vado qui l'ho andata a interessare no 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 era un altro tempo no 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 era un altro tempo ho identificato un contratto ricercato si 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 può fare c'è un pompa hai scelto di diventare un bersaglio ricercato fai molta attenzione lancio d'equipaggiamento alleato non si arrivo è lì no 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 non ci sono più le armi non ci sono più le armi ah ok ok lì c'è la cassa però doc torno su spostamento della zona sicura doc guarda ti lascio il cecchino qua e io vado alla cassa a prendermi l'altro cecchino così me lo rivelo spazzo no scusate riposizionamento annullare l'amico marcato box hai colpito mamma mia ma donna che cecchino ti ho lasciato scusa caldo eh mi hanno colpito ti senti dagli occhi vado qui ragazzi senti anche là affermativo tirla nemico marcato è un bersaglio ragazzi in arrivo nemico marcato è un bersaglio si ricevuto va bene a terra bravi mentre saltavo sarà caduto giù immagino qui c'è un bersaglio ah lo va a restare che palla metto tutto tutto si 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 mi hanno fatto giorgio il cecchino in mano contratto completato sei ancora in 400p in Lock vai va non altra quale foi phantasma ragazzi でも è un amico e una kasudo Oh come volete Io ho fantasma Eh si infatti Uniti i vostri Se no lasci il sole al carrello Ah ok Allora prendo i piastri No non è un cecchino Vado qua Cazzo Passo dal buco Corazzo Corazzo Cambio posizione Figlio di puttana Giuntato No 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 Bombardamento di prezionale nemico Al riparo Tieni duro e alzati Non preoccuparti Ce la farai C'era uno alla finestra di marrone In movimento Cambio posizione Tieni 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 Bersaglio marcato Subisco colpi diretti Tieni duro e alzati Qui mi sparano Gas in arrivo Spostamento della zona sicura Tieni duro e alzati Mi muavo Affermativo Alza un po' Zio quando è così Alza un pochino Raga lasciatemi soldi che vado a prendere piastre e cassa di munizioni Denaro affermativo Lasciamo il cerco però Ah scusa sono giù Ho lasciato lì il trofio Siamo a 100% Siamo nella posizionamento Annullare Ci penso io Ci penso io Raga non avete una mina vero? No Aspettate non sparate non sparate non sparate No va bene no 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 Non lo si è fatto Sono andato sul carrello lì Qui c'è un bertaglio Raga sul tetto no Veicolo nemico La corona Craccato Terra Se si resta Poi c'è la corona Mi sa che si resta No No lo va Attenzione un team nemico vi insegue Subisco colpi diretti Ma sporco giuda ma Eh quello rompicoglioni di prima No niente l'avrò già lasciato Ah niente l'avrò 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 E sti carini a cazzo Bersaglio localizzato Capito Verga sono sottotiro Sì sì Oh siamo al centro Siamo al centro Siamo al centro Non c'avete manco una corazza Venite qui Sì no io ne ho due Hai la Hai la cassa di corazze No Bersaglio marcato Nemico marcato Però che palle Eh no il fa Sì mi sa chiamò ma chi Forse lì dietro Cambio posizione Oh minaccia credo Mi piastro Adesso a giro mi piastro Me ne metto due Mi muovo Mi muovo Annullare Ah c'è la gente là Mi muovo Come non detto Mi muovo Mi pingo non c'è nessuno Cambio posizione Sistema non finuto Placcia traffico Con un veicolo Con un veicolo Vittato Ho un veicolo qui È velocissimo il colpo di sto cerchio Nemico marcato Pieno di gente adesso Avete evitato l'inseguimento Sì Vittato Vittato Ok D'occhio la tiro a cassa Avanzo No Ah vabbè Munizioni qui Vabbè Tirate per tarare tutti i colpi che avete Ah che toccasala che ho tirato Che toccasala Raga lassù Versaglio marcato Di nuovo Vittato Vedo movimenti Avanzo Raga c'è un cecchino la Cazzo mi sparano Lì Farò quello Non me la voglio posso Vieni duro e alzati Da dov'è Da dov'è che t'ha presa Ah ok Mi sa Pieno di gente Non morirò Raga siamo al centro Sì Raga bisogna Eh Luca stai Sei un feromino Se stai lì dalla carrucola Certo l'unica cosa che posso fare Sì 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 stai lì perché Si son buttati eh Nemico marcato Ostile in discesa nell'area Occhio in alto Ecco Stanno salendo Mi lo piga eh Mi bersagliano Non preoccuparti Da nord Da nord Cassi in arrivo Vado che è là il tipo Siamo nella zona sicura Prosti a difenderci Io mi piastro Sì sì Cioè se sale qualcuno Quante piastre abbiamo Quante piastre abbiamo in totale Quante piastre abbiamo in totale Rieccomi in pista Cato In movimento Ma raga qua ne basta Basto io dai Un bravo che posso fare Non so ne possono salire un'altra volta Nemico marcato Uopi nemico di volo Qui c'è un bersaglio Traccato Dock Dock Detro Gassi in arrivo Zona sicura Riposizionata Come hai fatto veni tu scusate Allora era nel tetto raga Eh raga io non ho più piastre Eh raga io non ho più piastre Bersaglio marcato Bersaglio Bersaglio localizzato È un team Di nuovo Di nuovo Sì Come ha fatto È venuto Te la caverai Devi solo resistere Sì Qui c'è un bersaglio Qui c'è un bersaglio Eh anche io non lo voglio usare Lì raga Qui c'è un bersaglio Raga lì c'è il cecchino di prima No L'ho pure l'ho Eh lo so Dove è l'altro? Sì, sì, sotto, sì Epinga uno 40 metri Siamo nella zona sicura Pronti a difenderci 30 metri Da lì, è Cambio posizione Concentrati Li pinga, li pinga Uno lo pinga No, 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 già Niente, madonna Aspetta, aspetta No, ma io ho finito No, no Doc, io ho finito uno per terra 10 metri 10 metri qui sotto Secondo me, Doc, potrebbero essere dentro Qui c'è un bersaglio È di sotto Dai, ce lo facciamo Avete del gas in arrivo 17 metri nord-est qui sotto Avete, Gian, hai piastre? Sì Granata partita Lasciamene una, Gian Lasciamene qualche piastre Solo questa, grazie Ho chiesto il proprio Sul fornicione Non ho fatto niente Questa partita L'avete fatto voi Anche meno di prima Comunque Una volta però Perché l'avete voluto voi Appena, attra volta 59 Sì Un po' ormai Una partita senza cerchino Né più Esatto 59 danni ho fatto Ragazzi, non potete Staccare con una win No, adesso ne favo un'altra A questo win non dovete Per forza Un po' ormai Unici Chi Eh, raga Io non ho usato Non ho usato un proiettile Aspetta 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 Fai la foto Sì, aspetta La foto sembra che so scarso Non è giusto Stavolta Comunque la fine Sì Guarda i punti Anche Un po' o Un po' ormai Un po' ormai Un po' ormai Quattro